They lost my car! Andiamo! No, 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 che me trollano! Oh, lo sapevo, lo sapevo! Trollatelo! Trollatelo! Aspettate! Ippo! No! No, no, no! No, raga, succede un casino! Via, via, via! Aiuto, 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 aiuto! Sali, sali sui! Dimmi che ce la fai! Mannaggia, ste portiere che ci mettono 50 anni ad aprirsi! Sui, sui, salgo, salgo! Salgo, sui, tranquillo! Ok, grazie! Andiamo a fare un bel canestrino? Direi proprio di sì! Andiamo, andiamo, andiamo! Vai sui! Oddio! Quella aveva quasi fatto canestro! Vediamo questa Wagner come va a fare i canestrini un po' storti! Se riesco! Se riesco! Toi! Ed entra qui! Quasi! Quasi! Ok, pure un bel flip, dai! Prendiamo un po' di rincorsa che ce la dobbiamo fare! E' pieno di elicotteri? O è qualcuno? No! Ci sono gli elicotteri, mi sa, eh! Credo proprio di sì! Oh, oh! No, 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 no! Devo prendere velocità, se no non ce la fa! Levate, sui! Levate, levate, levate! Ok! Mannaggia, guy killer! Mannaggia, arzuino! No, sono troppi! Devo schivare tutti! No, pure le trappole! Le trappole! Oddio! Sentite! Saltiamo per di qua? Sì, sì, sì! Proviamo per di qua! Ok! Andiamo, andiamo! Già hanno fatto un punto! Non ci credo! Ok! Vai, 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 vai! Perfetto così! Dimmi che è un canestrino! Dimmi che è un canestrino! Sì! Sì! Pure guy killer! Grandissimo! Sui! Andiamo, andiamo, andiamo! Dove si va? Per di qua! Ok! Andiamo a consegnare guy killer! Dove sta la consegna? Qua! Credo proprio qua, eh! No, 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 no! È qua! Ok! Dai, sui! Consegna! Consegna! 100 RP per il suino! Adesso ci dobbiamo suicidare! Sì! Grandissimo potere pure io del suino! Ok! Ok! Ecco perché erano con l'elicottero! Si spawna l'elicottero! Che spettacolo! Quanti punti mancano? Non lo so! Però si potrebbe tipo trollare mettendo l'elicottero nel canestro! Ok! Ci buttiamo, va! Andiamo, 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 andiamo! Dove mi sono buttato? Mannaggia me! Credevo che c'erano le Wagner! No! Ce n'è una qua! Ce n'è una qua! Aspettate! Sui, sui, sui! No, no, no! Oddio! Mi era quasi cascato! Shhh! Badaggia Black Mamba! Di nuovo in elicottero siamo, regà! Di nuovo! Andiamo, va! Via, via, via! Dove sta quel suino che mi ha trollato che gli casco in testa con tutto l'elicottero? Ok! 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 Pam! No, no! Non esplode subito! Aspetta! Eccolo! Qua c'è un suino da tritare! Ok! Ok! Tritato! Si possono tritare le macchine! Ah! Io mi ricordo una cosa! Su GTA 4! Con l'elicottero! Le macchine volavano via! Vai, vai, vai! Canestrino! Guardate quanto sono bravo! Oh mio Dio! Venite qua! Che vetrino tutti quanti! Aspettate! Oddio! Fate canestro va! Venite qua! Ah! Aspettate che stanno a venire a fare canestro! No! Sui levate! Aiuto! Oh mio Dio! Mi sa che ci serve una bella Wagner che sta qua la Wagner! Ok! Scendi giù! Quella è buona! Credo proprio di sì eh! Saliamo subito! Mamma mia regà! È cascato! L'elicottero in testa! Riorzati! 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 Vai, 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 vai! No! No! Di nuovo lui! Ok! Eccoci di nuovo qua! Un altro canestrino? Lo vorrei fare sinceramente eh! Un altro canestrino sarebbe proprio carino! Dove stanno le Wagner? Non lo so! Ce n'è una che sta qua! Ok! Aspettate che già stanno arrivando! No! No regà! Dai sui fammi sali però eh! Dammi sta macchina sui! Guy killer! Fammi sali sui! Sui 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 sui! Dammi sta macchina! Grazie mille sui! Sali! 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 Non così! Io vado a fare canestrino allora! Via 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 via! Ci dobbiamo sbrigare eh! Ok! Andiamo! No! Ok! Non lo so! Sono saltato un po' storto eh! Dimmi che entri qua! No! Per pochissimo! Non vedete perché sono sceso dalla macchina eh! Volevo tipo respawnare! Andiamo andiamo! Ah no! A parte che prima canestrino l'ho fatto di qua eh! Credo di si! Ok! Andiamo! Vai 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 vai! No! Troppo di lato! Aspettate! Mettete qua! No! No 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 no! Ce la devo fare! Ci dobbiamo sbrigare! Ok! Andiamo! Vai 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 vai! Ci rigiriamo per di qua! Perfetto così! Là c'è pure da fare un wallride! Però non so dove mi porta! Ok! No! Di nuovo storto? Non è che è storto! Non ci arrivo pure canestrino! Perfetto così! Perfetto! Non cascare! E mo? No! Eh si può risalire credo di si eh! Credo proprio di si! Aspettate! No! No! Regà! È anti-cheat! No! Non è anti-cheat! Aspettate! Aspettate! Che ce la facciamo! Vai! Perfetto così! Andiamo a consegnare la nostra bella macchinina! E secondo me si può cittare anche un'altra macchina! Aspettate eh! Ok! Consegniamo questa bella Wagner! Perfetto così! E adesso ci dobbiamo suicidare! Che ne dite? In un minuto ce la facciamo? Sui! Dove l'hai presa sta moto? Non si sa! Grandissimo! Io però mi devo suicidare! Vai! Sui! Dammi qualche pugno! E tanto! Devo morire! Guardalo che è arrivato a consegnare! Ok! Andiamo a prendere una bella Wagner! Se ce la faccio! E poi andiamo a cittare! Ok! Ok! Una buona sta qua! Vediamo se ce la faccio a fare tipo così! Ok! Scendi giù! Scendi giù! Vai! 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 Sui! Che questa è tutta mia sta Wagner! Oh! Sali! 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 Ok! Meno male! Andiamo! 55 secondi! Non so se è possibile! Ok! Vai giù! Dai! Ce la dobbiamo fare! Ok! Dai! Andiamo a cittare questa bella Wagner! Via! 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 Ok! Spero che era buona! Credo di sì! Perfetto! Andiamo qua! Olè! Olè! 29 secondi! L'ultimo punto del suino! Schiaccio pure il suino! Eccolo qua! Eccolo qua! L'ultimo punto del suino! Abbiamo vinto credo sui! Un potere! Perché abbiamo vinto questo stupendo big basket! Bellissimo! Anzi! Meno male che si poteva cittare che prima avevo fatto un punto non cittando e solo che sono andato di fuori! Comunque sia un altro poterino! Vincitore! Se vi è piaciuto questo big basket lasciate un bel mi piace! Iscrivetevi al canale! Seguitevi su Instagram! Saluto tutti questi suini! Bella! Ciao! 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 devo Grazie a tutti.